Ma che dovevano fare un percorso più breve? Porca miseria! Percorso che ho definito io, non arrivava neanche a mattinata, tagliava molto prima di mattinata ed erano 70 chilometri e 1200 metri di metro. Ok? Sì, è arrivato dicendo no, facciamo una costa, andiamo a Montesandangelo, andiamo a Montesandangelo. Ma secondo me, il disegno che hai fatto tu era più diluita, là si sono trovati poi... No, non è più diluita, era più corto. A Montesandangelo ci erano arrivati? No, non ci doveva, giravano molto prima di mattinata, qua non ci arrivavano neanche. Ma dove andavano? Andavano, andavano prima all'interno. Ah, non ti ho un pozzettino di questo? Stavo andato? No, no, non è molto, per dire. No, perché tengono un sfilamento solo. Andavano? Andavano all'interno e poi gli prendevano la costa con noi, ma erano 80 chilometri. Questo è dell'albergo. Te lo voglio? No, no, grazie, ce lo c'ho. Sto a posto, Angelo, grazie. Ho sbagliato, non fai un bambino, no. Il miele. Angelo, grazie. Paola, c'è una merendina, tu non ti dovresti tolto. Chi lo vuole il miele? No, la voglio il miele. No, c'abbiamo pure un po' di vento contro, eh. Oh, ma la posso togliere, questo? Perché poi qua... Ah, è vero. Secondo me, pure io me la tolgo. Beh, perché ora è tutto a salire. Esatto. Ora c'è una salita di 3 chilometri al 5%, 162 metri di slivella. GoPro arresta video. Grazie.